Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 24 giugno, è San Giovanni Battista e della giornata internazionale delle donne in diplomazia. Si tratta di un'occasione per riconoscere il contributo del genere femminile nelle affari internazionali e promuovere le pari opportunità a tutti i livelli decisionali. Un evento importante per celebrare le competenze e la leadership delle donne, il cui contributo e valore non viene ancora pienamente riconosciuto in tutto il mondo. Oggi è anche la giornata nazionale della zucchina e la giornata internazionale delle preline. Tra i nati in questo giorno abbiamo Renzo Arbore, 1937, Edoardo Vianello, 1938 e Jeff Beck, 1944. Tra le scomparsi ricordiamo John McAfee, 2021, inventore dell'omonimo antivirus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.